Vi avevo promesso una cosa particolare, vi avevo promesso che avremmo provato a ristabilire e ripristinare il grande onore dei romani oggi ci proveremo con questo estremo tentativo in cui come vedete abbiamo romani contro ciclopi giganti allora l'obiettivo è questo, i ciclopi saranno solo 3000 e manterranno la posizione e saranno circondati da 6 squadre da 5000 romani ciascuna per un totale di 30.000 romani, ecco abbiamo 30.000 romani contro 3000 ciclopi i numeri sono ovviamente a favore dei romani, però sappiamo che i romani sono capaci di tutto in negativo per cui proveremo oggi a dimostrare che in realtà anche loro possono vincere, che anche loro possono portare alto il buon nome di Roma per cui io proverei, sperando che non finisca veramente in maniera becera, inguardabile perché l'ho pensata tanto sta cosa voglio che venga bene, ci tengo, ci tengo che si vinca soprattutto più che venga bene oh, le legioni romane sono cariche, le legioni romane sono pronte le legioni romane mi sa che è piena una sveglia perché 3000 ciclopi sono veramente tanti forse ho sgravato un po' sul numero, vabbè, oh, io non la potevo rendere troppo allora loro lanciano roba, per cui loro saranno in mezzo a lanciare cose e i romani saranno intorno a menare io mi auguro che oggi una soddisfazione me la date? perché i ciclopi non stanno facendo nulla per il momento? il ciclopi aspetta il ciclopi è più intelligente di ciò che pensavamo i romani avanzano oh, hanno iniziato a tirare i ciclopi tirano i romani reggono no, una volta stanno morendo più romani di quanti i ciclopi ne stiano uccidendo questa cosa non mi è chiara vabbè, comunque sono partiti niente, i romani stanno iniziando già a cadere senza aver eliminato manco un ciclopi mamma mia niente, volano pezzi di romani ovunque ma perché? no, scusate ma è una cosa allucinante non c'è verso li stanno buttando via come se fossero bambocci mi hanno eliminati 4 vabbè, sono 30.000 oh, c'hanno la... sì, però, ragazzi scusate regioni romani sono caduto fuori scusate sono fuori dalla mappa no, eh allora, si stava appunto dicendo prima che mi buggassero e mi buttassero fuori dalla mappa che i romani non se la vedranno mamma mia delirio più totale ce la posso fa ce la posso fa posso arrivare davanti alle linee nemiche posso arrivare davanti alle linee nemiche non lo può toccarmi sono invincibile mamma mia ero invincibile una volta che so ah, ma non muoiono secchi vengono sbalzati via e poi svengono mamma mia è veramente di un'ansia vista da questo livello crea un livello di angoscia decisamente più alto rispetto a quello che offre dall'alto che mamma mia no, i romani mi sa che non c'hanno la minima chance comunque sono praticamente completamente circondati io quello che volevo fare era oh, si può fare v e ma non si poteva fare una volta i romandi v uno tutti con me su di qua se me fate passare ecco andiamo di qua andiamo di qua 40 uccisioni per i romani mille già per i ciclopi ma sono morti tipo 5.000 romani per cui siete dietro di me o state a fa finta ecco andiamo vai verso la vittoria sì 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 niente mamma mia che brutta fine però ma voi attaccate però niente stanno a guardare capo ecco è proprio la scena tipa io me ne vado vi lascio al vostro triste destino nei cari romani io però continuo a confidare ancora 20.000 uomini ci sono che possono tenere altissimo l'onore di roma forza volando mamma mia certo stanno a pia certe certe pizze in bocca oggi i romani oh su che vedo qualche piccolo non ce la faranno mai sono morti 15.000 romani e 170 sì orchi ciclopi non è fattibile ma manco per niente ma perché i romani non ne vincono mezza pensavo di aver anche esagerato con i numeri niente qua ci sono ventagli che volano pensavo di aver messo troppi romani pensate voi cioè invece l'ho messo i pochi a quanto pare fin troppo pochi ma perché voglio cioè non posso fare cose sbilanciate tipo 10 ciclopi e 200.000 romani perché se no c'è manco soddisfazione a vince no mamma mia che tristezza che tristezza non 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 riesco a dare un attimo di gloria ai nostri romani giusto quella volta con i direct quella storica volta giusto perché i numeri erano fortemente a sfavore dei direct perché qua santo cielo ci stanno quelli in mezzo che stanno secondo me infatti vedete c'è la parte centralissima dei ciclopi stanno giocando a scopa probabilmente intanto che i loro amici davanti lanciano cose ne sono morti 250 8.000 romani e tutto scusate i ciclopi avrebbero ucciso solamente 3.500 tutti gli altri sono morti di stenti di fame e di vergogna vabbè che amarezza enorme niente ci stanno pile dei cadaveri navi cariche invece che de pillo dei cadaveri vabbè finirà così raga purtroppo il sogno della gloria romana si infrange nuovamente io non so che altro inventarmi l'unica l'ultima razio come si dice potrebbe essere quella di proporre un'epica battaglia tra romani e scheletri ma a questo punto comincio a pensare che manco contro gli scheletri sarebbero in grado di inventarsi qualcosa mamma mia ma che schifo però ragazzi cioè gente che vola sospinta dal vento senza che nulla possa in qualche modo dargli un minimo di respiro da nessun lato sono riusciti a entrare giusto no neanche qua qualcosina qualcosina proprio a voler essere buoni mamma mia che amarezza ne hanno eliminati 320 cioè il 10% dei loro ranghi è morto del nemico che tristezza abnorme dire che sono amareggiato è dire poco sono rimasti 500 romani gli ultimi pro di 500 che voleranno anche loro verso il cielo mamma mia c'è solo una cosa da fare per l'onore di Roma avrebbero vinto perché sono morti per ultimi ma sappiamo bene che è stata una leggerissima forzatura che presa a male che presa a male che presa a male che presa a male vabbè ragazzi io che dire non c'è niente da dire che amarezza per l'ennesima volta che drammatica amarezza io io non so avete in mente qualcosa voi che se potrebbe fare per risollevare un po' le sorti di Roma perché o li metto contro i comodini veramente ma sarebbero capace le perde pure lì probabilmente oppure non lo so io ero fermamente convinto che qua l'avremmo sfangata e invece no i cirropi sono decisamente troppo troppo forti per cui niente ragazzi a questo punto direi che ci salutiamo qua fatemi come sempre sapere se avete idee o proposte varie e noi ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao